Carissimi ammalati, volevo raggiungervi con questo semplice messaggio per farvi arrivare il mio affettuoso saluto, per dirvi che vi sono vicino. Dopo l'esperienza che anch'io ho vissuto capisco bene quanto è importante affrontare l'esperienza della malattia con il giusto atteggiamento e chiedo al Signore per voi la grazia di una fede intensa, profonda, chiedo che vi faccia sentire vicino a Lui ancora di più perché anche Lui ha sofferto, vi faccia comprendere il valore che ha la vostra sofferenza agli occhi di Dio. Sappiate che non manca la mia vicinanza, come dicevo, alla quale vorrei aggiungere anche la benedizione del Signore. Vi conceda il Signore di continuare il vostro cammino senza mai perdere la speranza. Con l'aiuto dei vostri cari, ma in qualsiasi situazione Lui comunque è presente. Discenda dunque la sua benedizione su tutti voi e vi conceda la sua pace. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi accompagni sempre il Signore con la sua pace. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.